Proprio in anteprima, visto che uscirà i prossimi giorni, assolutamente come da intenzioni partiamo con la rimozione di una situazione di auto abbandonate da incivili che ammalora la vita delle persone per bene che vivono nello stesso condominio. Cominciamo ad andare a rimuovere in pochissime settimane, badate abbiamo volato con i tempi, a parte abbiamo volato, nel senso situazioni che sono lì da molti anni, tra poche settimane partono i carrotrezzi e cominciano a rimuovere le auto che si trovano in una situazione di rifiuto. Quelle che rifiuti non sono, stiamo parlando col Comune di Piacenza perché ci affidi e pagheremo noi, ci affidi un'area nella quale depositare le auto, pagheremo noi la rimozione, è assurdo ma la pagheremo noi perché le rimuovi da una via che non è una via pubblica, nonostante sia uno spazio di un comune, è considerato privato, quindi pagare tu col carrotrezzi non è che i vigili possono passare a rimuovere le auto, è per quello, è nel mezzo di questa assurda burocrazia che sono lì da dieci anni che può prosperare l'inciviltà. Noi assolutamente non intendiamo adagiarci su questo, quindi pagheremo noi le spese di rimozione, le depositeremo in uno spazio per non pagare ovviamente il custodio e il deposito e se ci sarà qualcuno che farà ricorso contro il sottoscritto, noi gli manderemo un altro avviso, entro 8 giorni tiri via la macchina che lasci li danni, però c'è gente che magari adesso abita in altre parti del mondo o che ne è irritracciabile, se qualcuno dovesse comunque chiamarmi a rispondere perché gli abbiamo spostato l'auto, non gliela abbiamo bruciata, gliela abbiamo spostata e gliela stiamo tenendo da un'altra parte, ho fatto la battuta in CDI i primi giorni che ci siamo insediati, sono arrivato a quasi 60 anni e ho ancora la condizionale, la metto in gioco su questa cosa qui perché vorrei vedere di essere condannato perché rimuovi una situazione di inciviltà e di offesa rispetto alle persone che si comportano bene, sono loro che dobbiamo rispettare, non chi se ne approfitta, chi se ne approfitta vedrà in poche settimane i carri attrezzi, assolutamente.